e vi propongo subito le principali azioni della partita perché sono sotto la neve come state vedendo ecco qui vediamo e con un infortunio a Calcaterra al decimo minuto Calcaterra aveva giocato al posto dello squalificato Altobe e Passarella e il suo posto entrerà Tardelli 32esimo passa l'Inter Altobelli da Rummenigge bella giocata del tedesco che crossa ed è lo stesso centro avanti Nerazzurro ad insaccare 0 a 1 scende il gelo è il caso di dirlo sul Bentegodi ma il Verona pareggia 7 minuti dopo ecco l'azione del pareggio del Verona in azione Bruni che dà a Triciella passaggio Delkier che beffa la difesa dell'Inter e Zenga così 1 a 1 42esimo la pressione del gelo blu viene premiata meritatamente da questo gol del bravissimo Elkier ed è il 2 a 1